Ciao a tutti, bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo nuovo appuntamento con Bioshock. Qua siamo arrivati finalmente ad Arcadia, dopo che lo stronzo di Ryan ha fatto saltare per aria il sottomarino. E dai non rompere i coglioni, faccia di merda. Sì sì, che cazzo voleva rubare? Se prendessi il fucile a pompa e te lo infilassi nel culo? Pam! Pam! Eccoci ad Arcadia, guardate che bello tutto. Ci sono tutte le piantine qua. Cazzo devo fare? Vabbè. Oh. Che? Vabbè. Come potete derivare, vado sempre dal lato opposto dalla freccia perché... perché ogni volta che seguo la freccia finisco nel casino più totale, quindi... esploriamo prima cosa c'è qua attorno... Oh, oh! Che è? Che stai spezzando, stupido? È una meraviglia. Oddio. Aiuto. Le visioni. Non ho fumato ancora niente. E ho le visioni. Non so cosa ho preso, ma sì, prendiamo. Fucilazzo pompa. Oddio. Chi è? Quanto? Bu! Puoi aiutarmi? Chi sei? Ma... Oh, che cazzo? Sono ricombinate in un modo che nemmeno te la invagia. Simpatici... Gli abitanti di sto posto. Oh, Cristo! C'è qualcuno lì! Ma che cazzo sei, inculatone? I ricombinanti! Ma che cazzo sei? Oddio. Ma... Dove sei? Vabbè. Da madonna! Anculo! Da porca troia, mi son cagato ad osso. Ma... Sì, sì. Ma cos'è quel col... E stai fermo che ti... No! Ma che cazzo... Lo sbaglio... Lo sbaglio... La troia... Mi hai rotto il... Ma... Ma... Mmm... Ma che è? Mi hai rotto il cazzo... Dove sei? Ehi... Oh... Cos'era? Acqua! Senti, coglione! Benvenuto, bellissimo! Aiuto! E ricombinante! Cazzo! Ma... Quello è fottuto! Ehi! Ma vai a cagare, toh! Toh! Rompicoglioni! Rompicoglioni! Comunque, stavo dicendo... Che qua dovrebbe esserci il regalo che mi ha lasciato la... La madame lì delle... Pimpe! Quella che palla... Tetesco! Con l'accento tetesco! Ah, qua è per lo scambio dei poteri... Non me ne serve niente adesso... Non so perché lo sto fissando come un'idiota... Quindi... Oh... Cazzo che palle... Queste musichette del cazzo... Beh... Ma... Porca vacca, beh... Chi è? Ma vai a morire, va! Ho sparato un missile in bocca! Facciamo le foto! Accompagnati da questa bella musica mo... Che ci motiva a continuare in modo molto... Aggressivo! Cioè si trova questa radola del... Beh... Questa radio li sp... Cazzo è? Ehi tu! Troia, vieni qua! Ehh... Violenta negli stadi! Quanti sei... Ma vai a fare il culo, va a te! Trocretta di merda! Bene! Ho! 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 Cosa c'è qua dentro? Cucù, c'è qualcuno! Eh, una cazza forte che io bellamente violo in modo molto veloce perché non ho voglia di star lì a unire i tubi. Oddio, cos'è? Vieni qua. Ehi! Chi è? E' capa di me! Ehi, tu, ti vedo bene! La musica mi irrita in un modo! Aiuto! Eh, cos'è? Tocca! Prendiamo tutto qua! Ehi, no, ma dimmi quel giorno che mi sono messo a dire, ma facciamolo il gameplay di Bioshock! Bello che non mi ricordo. Che è? Non vedo. Che cazzo ridi? Che cazzo ridi? La cariola! Posso prendere la cariola, no? C'è anche il badile. Volevo fare un po' di giardinaggio. Chi è? Papà, papà, uccidiamo tutti! Tanto no! Cazzo fischietti. Faccio passare io la voglia di fischiettare. Dove sei? Minchione. Oh! Aia! Ui! Ma trombana! Dove cazzo sei? Aiuto! E che appena ti trovo? Sempre che non mi trovi prima te. Ma con chi è che ce l'hanno? Stanno arrivando! Ma chi? Questo posto è nostro! Nostro! Ma... Certo che ce n'è di gente strana qua. Ok, qua prendiamo un po' di robe. Cos'è questo? Boh! Ok, seguiamo la nostra freccia, anche se io non voglio. Ma sì, fa niente. Tanto devo farlo per forza. Oddio! Ehi! Eccolo lì! Vieni qua, pezzo di merda! Muori! Muori! Mister bolla! Vaffanculo! Chi è? Dove sei? Bambina? Bambina! Vieni qua! No! No! Fai ferma! No! Grazie! Prego! Prego! Apparisce adesso! E' ora della nanna, mister B! Qua dovrebbe essere... Eccolo qua, l'orsetto che dovrebbe essere il regalo. Un po' di... Un po' di roba... Un po' di roba... Sì! Voilà! Ok! Voilà! Nuovo slot! Cos'è che... Nuovo plasmite! Ah, è la... Praticamente questo è il richiamo a Big Daddy! Chiama un Big Daddy in tuo aiuto! Fagli credere che sei una sorellina! Guardalo mentre combatte per proteggerti! Sì! Praticamente adesso abbiamo preso questo... Palla di muco! Qua sono... Un catarro di cazzo! Schifo! Ah, ecco qua! Bello, bello, bello! Lo slot! Oh! Bello, bello! Questo era quello che volevo! Sì! Finalmente abbiamo aggiunto un altro slot! Voilà! Yes! E vai così! Sì! Simpatica! Poi, poi, poi! Vediamo cosa posso prendere! Uno slot... Pum, 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 pam, padapim! Ok! Questo poi... Abbiate pazienza, eh! Poi, vabbè, i prossimi potenziamenti li farò prima di fare i gameplay così... Non sto qui a rompervi le balle con le mie... Che non so cosa fare! Ok, poi, poi, poi! Ok... Sì! Ok... Poi... 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 Prendiamo un altro slot Poi Quasi finito eh Voilà Poi prendiamo anche questo Bene Ora come potete vedere ho aggiunto uno slot in più alle mie plasmite Così posso averne tre invece che due soltanto E vabbè dai ragazzi questo gameplay finisce qua e vi aspetto al prossimo E continuiamo la nostra avventura Ciao ciao a tutti da GeneticDNA